Clamoroso, anche se solo sino ad un certo punto, ma vero. Fa specie dirlo alla vigilia degli incontri della quarta giornata, ma all'interno dello spogliatore del Barletta appare già il cartello con la scritta Emergenza, in particolar modo in attacco. Cicerelli, espulso domenica scorsa contro il Prato, sarà assente per squalifica. Idem la mantia alle prese con uno problema al ginocchio. Il centravanti biancorosso ha raggiunto la clinica romana di Villa Stuart per accertamenti. La gravità dell'infortunio al momento non si conosce, di sicuro però salterà la trasferta di domenica prossima contro il suo ex Frosinone, formazione a cui aveva fatto gol sempre al Matusa nella passata stagione. Il Frosinone è una squadra molto offensiva, il Stedone fa un 4-3-3 molto offensivo, anche domenica col Catanzaro è chiuso con il 4-2-4, quindi comunque troveremo una squadra molto affamata di gol. Senza la mantia ai Cicerelli dunque, Orlandi sarà costretto ad inventarsi qualcosa al momento di compilare la distinta. Soprattutto in avanti, le scelte alla luce dell'organico ridotto che ha a disposizione non sono tantissime per la verità. Picci così ritroverà una maglia da titolare al centro dell'attacco, dopo due panchine consecutive, quelle contro Ascoli e Prato. Al suo fianco, facile immaginare che verrà proposto Andrea Del Rico, è stato a Villa Stewart in settimana anche Fabio Romeo. Il recupero del difensore centrale bianco-rosso, uscito malconcio dalla partita di domenica scorsa, è comunque tutt'altro che da escludere. Di sicuro non sarà il meglio della condizione, poi deciderà Orlandi se impiegarlo o meno. Altra cosa da non escludere per la trasferta in oceceria è il cambio di modulo, soprattutto in caso di forfè di Romeo. Orlandi potrebbe optare per una difesa a quattro, anche se nell'amichevole di ieri contro gli allievi ha confermato la linea a tre con Camilleri al centro insieme al giovane Maccarone e a Pippa. Quest'ultimo tornato a disposizione dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le prime tre partite di questo campionato. Oltre a Romeo intanto, anche Di Bella ha lavorato a parte e non ha partecipato al test in famiglia. L'emergenza c'è dunque, inutile nasconderlo e la colpa non è soltanto di squalifiche e di infortuni, ma soprattutto di chi ha pensato di poter affrontare questa stagione con quattro difensori centrali e tre attaccanti in rosa. Storia vecchia ormai, quella nuova in arrivo, domenica a Frosinone. E gli obiettivi sono gli stessi di sempre, realizzare il primo gol in questo campionato, aggiungere punti a quello, solo quello ottenuto ad Ascoli.